E credo che per concludere cantiamo per Mahamadra, sì, eh? Noi, la Iskand, glorifichiamo Sitaram. Molte volte, i devoti mi hanno chiesto di cantare Sitaram, il mantra di Sitaram e poi dopo entrare nel Mahamantra finale. Quindi facciamo così insieme, cantiamo un po' Sitaram, 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 Ragupati Ragava Rajaram, la conoscete? E poi dopo cantiamo ai Sitaram. E poi dopo cantiamo ai Sitaram. E poi dopo cantiamo ai Sitaram. Sitaram, Sitaram. Sitaram, 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 Ragupati Ragava Rajaram. Sitaram, Sitaram. Sitaram, Sitaram. Sitaram, Sitaram. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.